Vai subacquea! Bella roba! Ma come cazzo fai? Dio santo! Nel mezzo! Nel mezzo, sbuntami! Grande! Grande! Ora muore! No, no, senta! Sei un vomita prima! Sei un vomita prima! E lei che è? Ci si mette le lampadine! Cioè, ha girato un 30, ha girato! E lei che è bellissima! E lei che è bellissima! Non, senta! Sì! E lei che è bellissima! E lei! E lei che è una borsa! E lei che è bella? Noi non so come faccio il loro occhio E se il figlio ne mangiare 10 minuti fa eeeh bellissima si dice uno dai ora no ragazzi questa la calzocina te la merita tutta però no alla fine li facciamo paparapararara eeeh vabbè che prendiamo tutto veniamo tutto eeeh 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 che nel mondo ma voi se c'è paura quando arrivo perché è per ti che lo compasso ciao saluta di eeeh ahahah ahahah ooooh ooooooooh ooooooooh ooooh Bonshi, bonshi, boh, boh, boh. Ti piace vincere facile, eh? Ci torno a mangiare gli gnocchi di prima? Panno buono. E' tutta la sambuca, eh?